Il giorno è ben trovati al TG4, emergenza migranti in primo piano sulla protezione speciale si consuma. Lo scontro tra maggioranza e opposizione che promette battaglia in Senato dove domani approda il decreto Cutro. Quattro regioni guidate dal centro-sinistra non firmano l'intesa sulla nomina del commissario Valente. Intanto gli sbarchi continuano. Settimana cruciale sul fronte immigrazione. Le opposizioni pronte a dare battaglia già a partire da questo pomeriggio in Commissione Affari Costituzionali dove si discutono le modifiche al decreto Cutro. Obiettivo è la maggioranza che ha trovato un accordo e si presenta compatta eliminare l'istituto della protezione speciale. Non è previsto a livello europeo e in questi anni non ha funzionato e la linea del governo. Poi il testo passerà al Senato dove è possibile che arrivi senza relatore per arginare la valanga di emendamenti. Ma è battaglia soprattutto sullo stato di emergenza e sulla nomina del commissario straordinario Valenti che domani sarà a Lampedusa. Emergenza che secondo il ministro gli interni piantedosi non ha accezioni negative. Quando in un fine settimana te ne arrivano 4, 5, 6 mila. Io sfido chiunque a immaginare che si fosse con strumenti ordinari pensare di poter trovare un'adeguata e dignitosa sistemazione alle persone nel giro di poche ore. Ma 4 regioni governate al centro-sinistra, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Toscana si rifiutano di firmare l'intesa e accusano il governo di non rispettare i diritti dei migranti e di voler smantellare i centri di accoglienza. Non solo, sei sindaci, Demma, la guida delle principali città italiane, Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze scrivono a Meloni. Siamo preoccupati, non toccate la protezione speciale e avvertono via il rischio di condannare all'illegalità migliaia di persone.